Stai creando delle offerte o delle promozioni? Una delle strategie più efficaci che portano risultati più velocemente per qualunque business è quella di creare delle offerte ovviamente o delle promozioni. Nel momento in cui uscirà questo contenuto dovrebbe ancora mancare qualche giorno a San Valentino e approfittiamo dell'occasione per fare qualche domanda e per riflettere. Allora San Valentino arriva e tu probabilmente hai clienti che in un modo o nell'altro lo festeggeranno. Il tuo tipo di attività può sfruttare San Valentino per creare una qualche offerta, un pacchetto, una promozione, qualcosa? Nella stragrande maggior parte di casi la risposta è sì perché se ti guardi attorno vedrai offerte per qualunque tipo di business da poltrona soffà a McDonald's a qualunque altro business. E il punto è proprio quello di sfruttare alcune occasioni per stimolare il cliente ad acquistare da noi come tramite delle offerte. Quindi si sfrutta un'occasione particolare sapendo che le persone tendenzialmente quel giorno effettivamente compreranno di più soprattutto le coppie e si cerca di creare un'offerta per aumentare il numero di vendite molto semplicemente. E la domanda che voglio farti oggi per portarti a riflettere è proprio questa. Hai preparato qualcosa per San Valentino? Molti di voi risponderanno no, eppure è una cosa che dovresti fare. Quindi forse sei arrivato oramai troppo lungo perché non hai tempo per organizzare nulla, ma tra un mesetto ad esempio sarà la festa della donna e potresti sfruttare l'occasione per creare un'altra offerta. In ogni caso dovresti partire da questo presupposto. Nel momento che porti qualcosa al mercato, che sia dal punto di vista del cliente conveniente, allora è un qualcosa che può sicuramente catturare la loro attenzione e aumentare il numero di vendite. Quindi se utilizzato correttamente e con parsimonia può portare i suoi benefici. La cosa a cui devi stare attento ovviamente è quello di evitare di vendere cose che ad esempio fino a ieri vendevi a prezzo pieno e il giorno X lo vende a un prezzo scontato. Questo è un tipo di attività che molti fanno, a me non piace, perché chi ha comprato il giorno prima ovviamente si sentirà un po' preso in giro. Quello che invece puoi fare è creare dei pacchetti, dei bundle, delle offerte che raggruppano più prodotti, quindi a un prezzo vantaggioso, oppure un pacchetto con un numero di quantità di prodotti o servizi a un prezzo vantaggioso. Esempio molto banale, se sei un fisioterapista, invece di scontare il tuo massaggio immaginiamo da 50 euro a 45 euro, potresti vendere un pacchetto da 11 massaggi a 500 euro. Quindi di fatto lo sconti, ma in realtà la percezione che ha il cliente è che comprando 10 massaggi ne hanno uno in omaggio. E in questo modo non si infastidirà nessuno di quelli che hanno comprato il massaggio a prezzo pieno, perché la percezione sarà comunque qualcosa di totalmente diverso. In ogni caso il messaggio che volevo portarti oggi era quello di iniziare a ragionare sulle offerte e valutare quali sono i momenti più propizi per cui potresti proporle al mercato per stimolare i clienti ad acquistare di nuovo e aumentare il numero di vendite. Questa dovrebbe essere un'attività da fare frequentemente. Ovviamente va studiata in maniera corretta, come ti ho detto evitando alcuni errori di quelli più banali. In ogni caso è un'azione che può aumentare in maniera molto veloce e molto importante le tue vendite e il tuo fatturato. Quindi non sottovalutarlo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ci sono attività che notoriamente a San Valentino lavorano molto di più proprio perché hanno dei prodotti o dei servizi rivolte alle coppie. Anche un qualunque tipo di attività nella ristorazione può creare qualcosa dedicato alle coppie e riuscirà a lavorare molto di più quel giorno. Ci sono invece altre attività che sfruttano il San Valentino come scusa per creare una promozione. Se il tuo settore ricade in questa seconda fascia, ecco, non demordere e valuta di creare lo stesso una proposta di San Valentino o per la prossima festa che sta per arrivare, proprio con lo scopo di stimolare i clienti a ricomprare da te e acquistare nuovamente. Quindi provalo e ti assicuro che i risultati arriveranno. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!